Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Maire sul tanto vediamo lo scalzo a mamma mia no questa voi pazzesco zoppica un po è stato investito dalla cameraman queste sono riprese non della regia internazionale ma della adesso invece è il primo dei umani question is how do democracias respondo scandalo and what will it mean for for the wider region I think one of your children's just walked in I mean shift is shifting shifting sands in the region to the relations with the north may change I would be surprised if they do the um pardon me the region my apologies North Korea North South Korea's policy choices in North Korea been severely limited Oh Oh También va a pelear con mexico mexico a pelear me alemania pero me da la impresión de que alemania llegó a su límite y mexico ya también llegó a su límite me permite Chile 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 Los Dodgers enfrentan a los cardenales de san luis esto el sábado a las ocho y media I'm gonna like us right and I'm this is what the life is supposed to look like que buena la acogida que le dieron in mexico se ria señor se ria Well today is the power balls 25th anniversary the game began 25 years ago in 1992 the Idaho lottery is celebrating by offering historic events and statewide promotions to commemorate the event throughout the years power ball has sold over 766 million dollars worth of tickets in Idaho alone and there have been a total of five jackpot winners in the gym state que buena la acogida que le dieron in mexico se ria 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 Liz Taylor is being played by Stockard Channing and Marlon Brando is being played by Cedric the Entertainer se ria la Fri Grazie, grazie a tutti per me! Ah, e tu è molto avciato! E quando eravamo a questo canale, abbiamo trovato... Il Lovati! Mi sento un commento... Se ricordano i figli sui, se ricordano i figli sui... Se ricordano i figli sui... Tu hai studiato! Sì, sì... 400 euro... 400 euro... Vi disse a la veddata... Sean va vi tenere spiegazione? I'm sorry... We were talking to Sam about Dancing for the Stars I guess we're supposed to be talking about Hold Yourself Together... Special Olympics athletes from Abilene to San Angelo who are here in town... You want me to read yours? Okay... Letter F. Fiona thinks she's the person with the letter F in your life. Of course, I can't believe I forgot about my dear Fiona. You are the F in my life, Fiona. I can't. I can't. I can't believe I can. It's a place where I'm from, and I'm a little bit older, and I'm a little bit older. It's better than you. Dan, what can we kind of expect going into the work week? Well, where are you? He's around here somewhere. There he goes. Come back, Dan. Hi. Hi, everybody. I'm glad you could drop in, Dan. That's okay. It's the least I could do, right? You know, everybody is disappointed that the work week is over or the weekend's over. But I'll tell you, you know what? The start of your work week is actually going to be off. A sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage. Sprayed? Corn? How'd they get on my bag? Okay, too far. Oh, my gosh. Here's the deal. Here's the deal. Just wait, wait, wait. This just is. We're on TV. We're on TV. There are people watching. We're not in a private area. Just FYI. Oh, my gosh. Last week, Twitter said guidelines were being updated due to confusion. The company says any users who tweets content. Excuse me. Okay. All right. Pulling it together now. It's 537. Good Thursday morning to you. I feel really out of the loop right now. I have tears coming back. Good morning to you. Good. Good morning. Good morning. Good morning. We don't have the problem with the 현 Loc WrestleMania. Big problem to the situation, we will tell you again. Saturday wills come back. No, just as soon as of the filming. The camera is on the Marines. abbiamo oggi un'interessante e io voglio di questo e ciò che faremo ma che stavano stavano potremmo stavano ma è stato un programma ma è stato un programma e ciò che faremo da uscane non ciò che dovremmo è ancora più previso ho dovuto faremo allora io voglio di faremo sì, io voglio di faremo ma io voglio di faremo prima di Wavrinko e Cole Schreiber e possiamo imporare ora di farò ora di faremo per cui vi è stato che vi è stato Non, non, non. Si tu parles, tu sa. Kilomètres à l'heure, à certains endroits, vous le voyez. Je salue. Il y a un collègue Charles qui a fait tomber quelque chose dans le studio. Et qui a failli tomber juste avant qu'on entre en onde. C'est pour ça le rire aussi. Alors, un peu de soleil pour demain quand même, en début de journée, mais vous le voyez pour la région de Cherbourg, ça s'ennuage graduellement. En après-midi. Pour la Montérégie, centre du Québec, possibilité d'averse, mais surtout en fin de journée. e che resta comunque confortabile fino a 20 degrini per Grand Bambro Missisqua è proprio il stesso è molto variabile fino a 20 degrini fino a 20 degrini ok region di granite è anche semplice non c'è nulla cosa a signale per la meteo per il soleil vi lascia guardare il resto di tavolo non io vorrei vi aiider Valérie ma non, sta... ma non, non, ne puissà non, 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 non ma non si non, non non, il frattato non, è un pollo il fatto un pollo il fatto un pollo il fatto un pollo Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, 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 non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero.